Sono un ragazzo sincero, da dove cresce la palla. Sono un ragazzo sincero, da dove cresce la palla. Il primo ritmo di mio piede, un beso pure da la palla. Guantanamera, 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 Guantanamera. Giugno come in denaio, colgivo una rosa bianca. Giugno come in denaio, colgivo una rosa bianca. Il primo ritmo di mio piede, un beso pure da la palla. Guantanamera, 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 Guantanamera. Guantanamera, 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 Guantanamera. Uno di un genere che si acceda, uno di un genere che si acceda, uno di un genere che si acceda, e quando c'è il pomeriggio, che c'è che faccia in realtà. Uno di un genere che si acceda, 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 uno di un genere che si acceda. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao, ciao. Buon appetito.